Attraverso un articolo sui giornali e attraverso anche ovviamente i nostri video promo avete sicuramente capito che Night and Day ha stretto una nuova collaborazione, quella con il sito internetrockbelluno.it Una piccola grande realtà per tutti i musicisti che attraverso questo sito possono scambiare opinioni, postare date dei concerti degli artisti bellunesi ma anche di fama nazionale ed internazionale e possono così interagire tra di loro parlando di musica. La collaborazione è nata con lo scopo di rendere tutti voi partecipi di Night and Day attraverso il vostro telefonino, la vostra videocamera o la vostra fotocamera. Il messaggio è molto semplice, non dovete far altro che prendere appunto uno di questi mezzi tecnologici e portarci in un vostro weekend, venerdì o un sabato ad ascoltare la musica degli artisti bellunesi che più vi piace. Potete semplicemente farci vedere parte del concerto in tre minuti oppure fare una breve recensione del gruppo che vi piace. Il tutto poi va inviato a rockbelluno.it attraverso un modulo all'interno del sito che trovate a vostra disposizione e sarà a rockbelluno.it a filtrare i video che arriveranno poi a Night and Day. In questo modo sarete protagonisti assoluti insieme alle vostre rock band e insieme alla musica targata Belluno. E allora da rockbelluno.it ecco il primo video. Ciao Giorgio, stasera siamo a Logico, ci sono i Raindrops e i Nevermind e adesso che suonano. Ciao Giorgio, stasera siamo a Logico, ci sono i Raindrops e i Raindrops e i Raindrops, non si speri che suonano.it ecco allora.it ecco allora.it ecco allora, L'arte strisciando nell'inquietudine Vittime, regali, maestri di solitudine Non consapevoli della loro realtà Finzione, messa in gioco, senza alcuna qualità Non mi credo mai un amico Essere patrici, percepiti come un bisogno Come un bisogno Come un infarto Mi voglio iniziare con me Come un infarto Perché Come un infarto E' slabba rischi E' slabba rischi Grazie a tutti.